Ciao ragazzi bentornati in questo video sono Kai ragazzi oggi siamo tornati su Clash of Clans Allora ragazzi guardate bene ora non siamo sul villaggio costruttore ma siamo bensì sul villaggio base ovvero quello da scalata E se guardate bene ragazzi in basso proprio al centro troviamo il cannone a livello 14 Vi racconto un po' la mia esperienza che è stato per costruire questo cannone a livello 14 In sostanza ho dovuto gemmarlo perché mi richiedeva in pratica due giorni per il suo completamento E io non potevo tenere fermo ben due giorni nella base del costruttore Già perché quando finisce la difesa cioè quando finisce l'upgrade della difesa il mio tra virgolette muratore sta fermo Perché se ho finito gli attacchi utili dov'è che arrivano le risorse perciò l'ho dovuto gemmare Non che avessi voluto sono stato obbligato E ragazzi ho anche un bel replay per voi praticamente mi hanno fatto malino malino lo ammetto è stato bravo sto ragazzo qua E praticamente ho dovuto aspettare un paio di attacchi prima che mi attaccassero di terra Eccolo qua ragazzi guardate il golem che subisce tanto danno sia grazie al doppio cannone e alle tesla Guardate sto qua ha buttato tutto proprio dove aveva le bombe E insomma sono stato parecchio contento ma purtroppo i bocciatori erano tanto tanto vicini alle difese principali Come le torri inferno e il town hall perciò distruggere questo villaggio è stato uno scherzo E allora ragazzi perché mi chiedete cioè nel senso perché ti sei fatto sto villaggio Insomma ho il villaggio maxato le risorse ora non mi servono più un gran che Perciò l'ho fatto solamente per estetica mi piaceva un villaggio particolare e molto singolare Particolare e singolare E se provate a copiarmi madonna come vi picchio A parte dei scherzi ragazzi il re nemico sta morendo e sta entrando anzi ora tra poco muore Quello che mi ha fatto male è stato la regina avversaria che era ancora il 45 E c'era il sorvegliante che aveva la cura delle guarigioni dietro perciò non è stato distrutto La regina degli arcieri muore a momenti distrutta dall'arco X e Allon continua a distruggere il mio villaggio pian piano E torniamoci nella base dei costruttori ragazzi Allora sono diciamo un po' bloccato con le coppe Si sale e si scende si sale e si scende Attualmente sono a 2433 coppe E ho migliorato un pochino il villaggio Se vedete bene ragazzi ho fatto anche due paia di mura a livello 3 Perché queste mure qua sono tutte attaccate non so neanche come quantificarle Vabbè fa niente ragazzi nel laboratorio stellare ho messo anche il bombarolo Voi lo chiamate bombarolo ma io lo chiamo spaccamuro perché una volta Clash of Clans lo chiamava spaccamuro L'ho messo a fare a livello 6 perché è diventato letteralmente una bomba micidiale Infatti oltre a distruggere le mura attacca anche proprio gli edifici e fa parecchio male Inoltre ragazzi ho messo anche la Tesla a livello 3 perché la Tesla quanto ho visto fa veramente male gli arcieri E poi se ha surprise fa ancora più male Andiamo a fare una ricerca va là L'ho trovato subito però E fa male questo perché guardalo guardalo come è pronta a distruggere gli arcieri Praticamente ragazzi quando avete contro un ragazzo molto più forte di voi e soprattutto se è mortaio Gli arcieri distribuiteli più largamente possibile anche i giganti Così allora spero questa attacking è un po' pericolosa perché se vi beccate delle bombe Gli arcieri si dividono ancora di più e la vostra forza d'attacco sarà ancora minore Però questo è l'unico modo per fare un pochino di percentuale Guardalo mamma mia sto mortaio fa troppo male Nel frattempo gli arcieri che si sono divisi stanno facendo un po' di percentuale E la sala del costruttore non la prendo Aiuto E non poteva essere altrimenti purtroppo Eh guardalo guardalo Divertiti a distruggermi dai Ah le truppe come le mie però le eroe Perciò si sta divertendo sventrarmi Quasi 100 della serie sarò delicato con te Molto delicati Sta portando la sala costruttore 5 Ah piccola parentesi Nell'ultimo video avevo detto che se arriviamo a 15.000 like Facevamo la sala livello 5 in live Siamo attualmente a 13.000 Manca poco ragazzi dateci dentro con il like E ora studiamo come attaccare questo Qua c'è una bomba gigante sicuro Perciò attacchiamo da questo lato qua Vediamo come Eh la Peppa Pig Ho sbagliato lato ragazzi E' pieno di bombe lì Forse è meglio non dirigerci verso quella direzione Arcerini Arcerini Non fatevi bene dire Ok scattata anche la tesla nemica Abbiamo scoperto dov'è Perciò qua sono a posto Non c'è nessuna bomba Le bombe sono le cose che fanno più male in assoluto agli arceri Ok i giganti sono vicini al spacca tutto Faccio due stelle sicuri Sicure sicure ma non sono sicuro della terza Ok la prima l'ho presa Anche la seconda l'ho preso proprio ora Ora devo fare un po' di percentuale Perché è rimasta ancora in vita Una torre da ralciere E due giga Eh sì due cannoni Mamma mia guardate si spacca muri Come ve l'ho detto prima fanno malissimo raga Vabbè 74 Ci accontentiamo PAM 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 Eh L'ho detto raga Questo villaggio che ora Funzia proprio per difendere la sala Io vado a puntare le due stelle Solitamente se non mi becco uno con gli eroi io vinco Andiamo a cercare una Eh sì dai Due minuti devo aspettare Prendiamo un po' di big money Ah siamo anche in guerra Raga sotto nei commenti Ditemi se volete che porto anche i video sulle clan war Perché da un po' che non le faccio Le sto facendo tutte sulla nuova base Beh questo cannone qua è stupendo Praticamente quando lo attivate Il raggio d'azione del cannone diminuisce da 9 a 7 9 a 7 Però fa un danno veramente assurdo Prima era contro i golem Se avessi combattuto contro qualcosa di più scarso come un gigante Lo avrei fatto fuori in 2-4-8 Dato che ci siamo ragazzi abbiamo anche le risorse Facciamo due pezzi di mura a livello 11 Tac e tac Prima o poi dovrò maxarmene queste mura Dai non sono messo troppo male Ok bassa risata malefica Arcieri ai lati E si va a prendere percentuale Io ho tanta paura di questi buchi che sono dietro al town hall Ovvero la sala del costruttore Perché è molto probabile che ci siano delle trappole Perciò come al solito Raga da lato non si sbaglia mai Quasi mai Ecco i giganti sono proprio stupidi Non mettetene troppi subito Perché sicuri che andranno a fare il giro Io metto intanto un paio di arcieri Ok Il gigante l'altro è già volato dentro Per andarsi a farsi benedire dal spaccatutto Però mi piace La sua intelligenza artificiale Ok è morto Aia aia La vedo un po' dura Sì 2 stelle Non dovrai avere troppi problemi Infatti mi aiutano anche i bombaroli Ok No no raga No raga Non siamo riusciti a prendere 2 stelle Cavoli Qua vado a rischiarla pesantemente No Invece ragazzi abbiamo persino vinto Stessa percentuale Però io ho preso anche la sala del costruttore Non siamo ancora arrivati al mio nuovo record Perciò Se il video scorso ragazzi arriva a 15.000 like Domani sarò in No cazzo domani non posso Giovedì Penso di essere in live streaming Per voi Like e commento Noi ci vediamo al prossimo video No cazzo domani non ci vediamo il video No cazzo domani non ci vediamo il video